SILENT PLEASE! volevo innanzitutto ringraziare tutti cioè con questo volevo fare la piccola fare questo circolo nasce con le doppie idee con l'idea del Napoli perché purtroppo noi abbiamo l'azzurro e con l'idea di come luogo di ritrovo per tutti che sia la casa di tutti voi io vorrei ringraziare veramente chi è stato in prima linea e chi ha avuto meno visibilità allora vorrei ringraziare Marco, Ilaria, Luigi, Alessandro e tanti altri che mi chiedete se non mi dimentico vorrei ringraziare chi mi ha dovuto sopportare per questi mesi come la mia famiglia quindi mi ha proprio sopportato e però alzando il piere voglio ringraziare tutti voi questa è la casa nostra grazie a tutti